Ed eccoci qua su un titolo che proprio nessuno conosce, ma proprio zero, è un titolo veramente tanto di nicchia che non conosce proprio nessuno, ci avrà giocato una, due persone, ma forse anche mezza persona, ecco. Ok, eccoci su Subnautica, un titolo che non ha assolutamente bisogno di presentazione, ma ha assolutamente bisogno di una unica cosa, tanti, tanti, tanti porchi, sì. Ok, accettiamo i consigli molto passivamente e avviamo questa modalità assolutamente l'estrema, non ci penso neanche, ma neanche, ma no, 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 assolutamente no. Ok, vediamo un attimino cosa ci aspetta, quelle immagini favolose, wow, bellissimo. Ok, cosa sta su, ecco, già sento un allarme, la cosa non è buona, assolutamente, ecco lì, perfetto. Ah, lancio, cos'è una capsula d'emergenza? Direi di, oh, non lo so, di, che cazzo è quello a fare? È qualcosa che esplode, è qualcosa che esplode male, esplode tanto e potrei dire che siamo quasi quasi nella merda? Eh, sì, non so come cacchio ci salveremo, ma va bene. Guarda che casino, sta andando all'aria, porca Eva che male. Porca troia che botta, ma sai prenderne a fare così in faccia? Madonna, è un pugno da Mike Tyson, hai preso, oh, ma perfetto. Ah, e siamo anche castrati, ah no, ci siamo disincastrati in qualche modo. Ok, diamoci da, possiamo fare qualcosa, ah, devo fare io? Così? Sì? Sì, ah, e andiamo anche a fuoco, va bene, va benissimo. Eh, spegniamo un po' tipo tutto? Grazie. Mamma mia! Oh, che cacchio! Abbiamo iniziato benissimo proprio, eh. Cos'è sta roba? Avvio modalità di emergenza. Ok. Ah, ok, abbiamo un trauma, ma va tutto bene. Ok. Ok. Ok, va bene, va bene, va bene. Grazie per la buona fortuna, eh. Eh, gioco, mi dice qualcosa? No, non mi dice un cazzo. Ok, va bene, tutte cose. Ok, qua abbiamo uno slot, un box o qualcosa. Allora, vi è stestintore dalle palle. Poi qui cosa abbiamo? Razzo di segnalazione. Un altro razzo. Acqua filtrata e barretta nutriente. Ok, va bene. Qui invece cosa abbiamo? Un kit medico, prendilo subito. Ok, qui. Questo è rot. Se è rot. Se è rot. È tutto rot. Sta cazzo da fare. Qui invece c'è l'energia solare. Ok, va bene. E qui abbiamo... Ah, qua c'è il fabbricatore. Vediamo cose. Ok. Materiale basico. Titanio. Lingotto di titanio. Gomma siliconica. Vetro. Cloro. Ok. Non possiamo fare un cazzo, direi. Direi che non possiamo fare assolutamente una ciolla di niente. Ok. Guarda qua roba. Ok. Allora. Scanner. Riparazioni. Coltello sicuramente. Vabbè. Per ora li mettiamoci... Sotto cosa c'è? Sea Glide. Wow. Allora, vabbè. Occupiamoci di fare queste cose. Non queste. Queste. Allora, dobbiamo fare il coltello con la gomma e il titanio. E la gomma... Eccola qua. Ok. Vabbè. È inutile stare qua. Dobbiamo andare a cercare cose. Si esce così. Ma cazzo si esce? Ah. La peppa. Guarda. Mamma mia. Oh, signorina. Non cominciamo a rompere le palle, eh, lei? Guarda che spettacolo. Guarda che spettacolo che non è. Andiamo a raccattare cose? Come si fa? Così? Ah, sì. Ok. Ok, rottami, rottami. Ok, dobbiamo fare un po' di... Ma che spettacolo! Ma guarda! Wow! Oh, che palle. Ricominciamo? Sì, a quanto pare sì. Guardala! E chi cazzo la voglio? L'aurora questa. Sì, è la... Ah. Ok. E forse non te la passi benissimo, eh. Ok, andiamo di nuovo giù a bagno. Andiamo a raccattare cose. Ok, qui è un frammento del... Mi sono cagato non addosso di più. Che cazzo è? Boh, non lo so. Dobbiamo raccattare il mondo, eh. Io la butto lì. Ok, muoviamo i primi passi, dai. Ma che spettacolo che non è? Eh, rompi il calcare. Abbiamo preso del rame. Copper. Sì. Bene. È molto... Sì. Da improbabile a impossibile. Va benissimo, eh. Va benissimo. Ok, continuiamo ad girarci per qua. Troveremo altre cose. Eh, guarda qua, detriti. Ok, un frammento di radio far abbiamo trovato. Va bene. Ok, continuiamo. Mi scusi, mister. Mi vado un pochettino più in alto che se... Ecco, sì. Almeno se andiamo sotto di ossigeno siamo subito in superficie. Allora, eh... Io ho visto nel... Costruttore, come cazzo si chiama? Che c'erano questi? Prendiamoceli un po'. Non me... Non mi ricordo mica che cazzo servissero, eh. Vabbè, non li prendiamo. Poi qualcosa serviranno. Guarda qua! Qualcosa serviranno, non mi ricordo, eh. Eh, domande... Eh, ho capito. Oh, ok. Dove cazzo? Ah, eccola. Ah, quindi dobbiamo anche ricercare tutte le forme di vita che ci sono sotto a fare, su sto pianeta. Spero che un po' di terra ogni tanto ci sia, ma non è che ne vedo tantissima, ecco. Come cazzo nuota? Vabbè, non ci ha dato sapere, neanche lo vogliamo sapere, ecco. Ok, rientriamo nella casetta. Va bene, questa cosa. Ok, a fabbricare... Oh, vedi che abbiamo cose. Materiali basici. Possiamo costruire titanio e il cielo craft... Oh, guarda! Che spettacolo! Costruisci ancora. Wow! E gomma siliconica. Costruiamola. E questo è lubrificante. Boh, non so cosa mi possa servire di più se la gomma è lubrificante, ma vabbè. Vabbè, facciamo un po' e un po'. Tanto le risorse qui non mancano, quanto ho visto, eh. Oh, pfff! E vai via, zanzar di merda! Possiamo fare altre cose. Allora, qui possiamo fare una bombola di ossigeno standard, le pinne. Istintore, non credo che ci serva al momento, abbiamo spento già tutto. E qui... Ah, è qua il coltello. Allora, io direi di fare le pinne. Aumenta la velocità di nuoto del 15%, circa? Sì, tutta la vita. Ok, ecco l'elizia, l'abbiamo. Oh, ok. Ok. Ah, ottimo. Va bene. E la bombola di ossigeno possiamo fare? Possiamo craftarcela? Sì. Ok. Ok. E abbiamo 75 di ossigeno. Ottimo. Ok. Qua invece possiamo costruire il coltello? Facciamolo, che può sempre servirci. Wow. Ah. Ah, sono state rimosse. Ah, un coltello ovviamente è l'unica eccezione. Va bene. E qui invece possiamo craftare l'armadietto. Vabbè, non credo che ci serva al momento. Allora, ci serve la batteria. Eh, ci serve un bel po' di roba, a quanto vedo. Allora, vediamo. Qua nel nostro... Ah, vedi, possiamo buttare tutta sta roba. Questo che cazzo è? Non lo so. Ma qua c'è... Posso cre... Guarda un po'. Cos'è sta roba? Uh, le cose che possiamo craftare. Ma saranno tipo in grammi? Non lo so. Allora, ho visto che ci serve sicuramente la batteria. Qua non mi ricordo. Allora, scanner. Strumento di riparazioni. E costruzione. Ah, poi qui... Ah, ho capito. Ok, vabbè. Facciamo che per ora ci accontentiamo? Vabbè, facciamo cavetteria, filo di rame, process... Ah, basta. Non possiamo fare altro, ma serio? Ok, qua non è cambiato un cazzo. Qua di sotto, invece... Ah, eccola qua. Batteria, fungo acido per due e rame, minerale. Ok. Questo è un microprocessore. Cavetteria, argento? Ok, mi domando quando e dove lo troveremo. Per la bombola di ossigeno a capienza elevata mi serve l'argento, anche qua. Pinne, ok. Questo che cazzo è? Istintore? Vabbè, non ci frega niente. Ok, dobbiamo craftare assolutamente la batteria. Ok, quindi mi serve il fungo acido e il rame. Ok. E che cazzo? Già notte? No, comunque avere tanto ossigeno in più è tanta manna qua, eh. Però dobbiamo cercare cose. Mi domando se spawnano anche animali pericolosi, più pericolosi di notte. Ma non lo voglio sapere. Ok, abbiamo trovato un minerale di non so cosa. Che cazzo è? Che cazzo è quella farli... Boh, non lo so. Io ci sto lontano comunque, eh. Certo che di... Eh, che due palle. Dai. Oh. Guarda, che spettacolo! Ma guarda, che spettacolo! Ti è un po' meno. Wow! Ok, torniamo giù. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare cose. No, che cazzo è quella farli? Che cazzo sei te? Ma c'era com'è? Boh, non lo so e non lo voglio nemmeno sapere. Io ci sto lontano. Sto cagliato addosso. Ah, che palle. Non male che siamo quasi... Cioè, non siamo tanto sotto. Allora, una cosa certa. L'immersività è favolosa. È fantastica. Poi se hai... Come ho io... Delle... Delle cuffie di qualità con audio 7.1 è... Wow. È veramente... Abbiamo recuperato cose nel mentre stavo parlando. Non me ne sono neanche accorto quasi. Ok, va bene. Il problema qual è? E anche di notte non si vede una ciolla. Semplice. Ok, torniamo... Eh, adesso ci vede molto di più, eh. Cazzo. Ah, pure. Perfetto. Cosa vuol che succeda? Ah, ok. È il nucleo dell'aurora. Ok, guarda qua. Posso entrare? Sì, posso entrare. Cosa cazzo sei te? Non lo so. Non lo voglio sapere. Quarzo. Mi ho trovato del quarzo. Mi domando cosa... Sento dei rumori brutti. Che cazzo? Che cazzo è sto co... Che cazzo è? Oh, 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 oh. Vai via. Vai a far quello da un'altra parte. Che cazzo vuole... Ma sei scemo! Ma è un pesce kamikaze quello lì Ma pensa a te I pesci che mi fanno gli attentati Cos'è sta roba? Titanio Ah che palle E meno male che c'ho la bombola grossa Cosa cazzo sei te? Cosa sei non lo so Però sei brutto E magari sei anche stile No non mi punta Però io ti sto lontando lo stesso Ok Fungo acido Che cazzo serve? Non lo so cosa serve Prendiamoli Al limite facciamo due tagliatelle Allora io direi che un po' di roba Per ora l'abbiamo recupera Che cazzo è? Un po' di roba l'abbiamo recuperata Che cazzo è la cazzo? Ah eccola qua Vediamo cosa riusciamo a craftarci Ah beh una batteria La batteria riusciamo a craftarla Ok E facciamola Che ci siamo Ok Cella di energia Abbiamo un nuovo progetto Ok Ok Su strumenti Possiamo fare lo scanner Facciamoci lo scanner Ti domanda cosa serve Ma va bene Bene Ok Quindi troviamo dei progetti in giro E anche la fauna Flora Ok vediamo cosa riusciamo a fare ancora Ok dobbiamo trovare dello zolfo e del titanio Ok però Aspetta un po' Perché possiamo forse fare La bombola grande Io la butto lì Eh no ci manca l'argento Cazzolina Allora gomma l'abbiamo Zolfo delle caverne Non l'abbiamo Titanino abbiamo tonnellate Ok dobbiamo stare attenti Perché qua l'inventario Non è che sia enormissimo Ecco Allora ma come cazzo funziona Autoscansione Cos'è l'autoscansione? E beh Ok Ah ok Ma come funziona sto coso? Fungo acido ad esempio Mi fa scansionare e Forme di vita locali Fungo acido Ah ok Me l'identifica quindi Questa è erbaccia con torta Va bene Ah è più o meno veloce Ok ma anche sulle creature Dai fai Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ma guarda te Se devo seguire l'idiota Ok Razza coniglio E siamo Senza acqua? Senza aria? Sì Senza acqua È Un po' improbabile Che cazzo sei te? Te mi sei di cazzo Mi hai fatto non cagare addosso di più Che cazzo è sto coso? Dove cazzo sta andando col coso? Cosa sei? Ok Ti fai scansionare? Ma guarda te Ok Au Ma fa un culo Mi ha tirato un morso Ma vettelo a prendere In culo Pezzo di stronzo Mi hai fatto malissimo Mica mi ha fatto malissimo Abbiamo trovato qualcosa Frammento del sea glide Non è 50% uno di due Cioè gioco? Perché Sì ecco Non è che abbia capito moltissimo Di Fa un culo Mi sono cagato addosso Ma ti fai scansionare? Mamma mia che brutto che sei Ma che cazzo fa? A modo A modo Via Se porca troia all'ossigeno Domanda se arriva a zero muoio? Probabilmente Gasopode Che cazzo? Non so che bestia sia Una cosa certa Sei brutto Sei tanto brutto Frammento del sea morph Cazzo Non lo so Arrivo un attimo Minchia siamo a 50 Mentre qua ci muoio Ok La prima morte in diretta? La prima morte in diretta E siamo morti No Questa è una botta di culo Sì ok Non ho capito un cazzo Di quello che hai detto Ma va bene Quindi Devo cercare In mezzo a tutti questi relitti Se trovo cose Abbiamo trovato qualcosa Trappola gravitazionale E che cazzo è? Bancone Abbiamo trovato cose Non so che roba sia Ma io scannerizzo tutto Eeeh Che è? Un radio faro Abbiamo trovato Vieni qua Argento abbiamo trovato Wow Qui? Taglierina laser E che cazzo è? E che cazzo è? Figurati un po' Se non erano Mezzai Cogliotti lì Ragazzi Mi lasciate stare Un secondo Poi me ne vado Abbiamo trovato Framito Piattaforma Per veicoli Abbiamo trovato cose E sento cose Che arugnano Via No 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 Mollami Che mi hai già morso Il culo Una volta Mi hai fatto malissimo Ce l'abbiamo attaccato No Ci sta lasciando perdere Per fortuna E chi è? Che cazzo è successo? Eeeh Wow Wow Che cazzo è Quell'affare lì? Vai un po' giù? Porca Eva Ma è tipo Un geyser Porca troia Boh Non lo so dove siamo Abbiamo trovato Credo siano progetti Una sedia cirevole Wow Utilissima Eh Eh si è un blueprint Quindi è un progetto Frammento Seaglide Abbiamo ottenuto Il progetto Per il Seaglide Si ma che cazzo è Seaglide? Non ne ho la più palida idea Andiamo a vedere Poi eh Allora Qui ho trovato una cosa Ma a quanto pare Non Non ci si può entrare Cioè È tutto chiuso Da tutte le parti Allora Facciamo un pochettino Una cosa Torniamo alla nostra Capsula Che è tipo Di là La fanculonia Di là Tanto di là Ok Vediamo un pochettino Cosa riusciamo a fare Aspetta Perché qua Noi adesso Possiamo fare La bombola Capienza elevata Perché il minerale D'argento Ce l'abbiamo Ci mancano Due di vetro E la bombola standard Vabbè La bombola standard Ce la faccio tipo adesso E due di vetro Ok Eccola qua Possiamo craftarcela Facciamola subito Perché qua ci serve ossigeno Qua ce ne serve tanto Wow E ce l'abbiamo fatta Ok Eccola L'abbiamo equipaggiata E adesso abbiamo 135 di ossigeno Ottimo Qua abbiamo L'uovo di creatura Che non so Che roba sia Invece qua Negli engrammi Abbiamo un po' di roba Microprocessore Sì Tutta la vita E non possiamo fare altro Ok Possiamo già fare cose Ok Possiamo craftare Una batteria Ok E adesso Che cazzo Che ci serviva Lubrificante E filo di rame E titanio Ok E tutta roba che abbiamo Ok E possiamo craftare Sto Seaglide Che non so Che cazzo Sì Ma vabbè Dettagli Dettagli Ah 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 ma è un È un motorino Ma figo Ma adesso Siamo molto più veloci Wow Spettacolo Ma guarda Com'è veloce Adesso possiamo Veramente esplorare L'universo E mezzo In zero tempo Va con la bombola Ad alta capienza Ancora Spettacolo 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 E ho visto che la vita Però non si ripristina Questo potrebbe essere un male Sì Molto E soprattutto Un'altra cosa Che devo essere io A salvare il gioco Perché a quanto pare Checkpoint Non ce ne sono Non me lo salvo in automatico Non lo so Vabbè Lo scopriremo poi Lo scopriremo poi Ok Per ora Fermiamoci qua Abbiamo già trovato Un bel po' di cose Molti progetti E adesso Non ci rimane altro Che andare avanti Con l'esplorazione Ci saranno Tantissime altre cose Che sicuramente Dovremmo trovare E tantissime altre bestie Che ci pitteranno Al culo Sì Perché è successo Tante volte Ma vabbè Dettagli Nei prossimi episodi Andremo avanti Siamo praticamente All'inizio Abbiamo ancora tutto Mondo da esplorare Comunque Se il video vi è piaciuto Mettete like Condividete Iscrivetevi al canale Fate un cazzo che volete Tanto ormai lo sapete E noi se vorrete Ci vedremo in un prossimo episodio Ciao ciao Ciao